Sì, bentornati, bentornati in una nuova puntata del Luca Toselli Show. Come va, come va? Tutto bene? Nonostante il freddo che sta arrivando fuori ormai le giornate sono sempre meno calde e a me un po' questa stagione fa schifo. Grandi novità, grandissime novità. Ho deciso di cambiare completamente il format dello show, ma di questo parleremo o in una storia di Instagram o in un altro video o alla fine di questo, devo ancora decidere bene. L'unica cosa che non è cambiata è questa camicia che stai iniziando a fare, sicuramente un profumino non vi pulito. Breve recap, per chi non lo sapesse, penso che siate veramente in pochi, ma è sempre meglio ripetere le cose. Abito a Finale Emilia, in provincia di Modena, l'avrete sicuramente sentita perché nel 2012 l'epicentro di quel terremoto tremendo era a due chilometri da casa mia. Tutto bene, grazie per avermelo chiesto, sicuramente non volevo arrivare al vittimismo personale. Finale, nonostante sia nella provincia di Modena, è molto vicino a livello geografico sia a Ferrara sia a Bologna. Il nome Finale sta proprio a simboleggiare il limite fisico e il termine fisico della fine di queste tre province. In questo momento mi sto terribilmente sentendo un professore di geografia. Avrete comunque già intuito, anche solamente guardando i video presenti sul mio canale, la mia posizione geografica come le domande che ho fatto alle persone a Bologna e su Cristiano Ronaldo o come la live reaction che vi ho portato allo stadio Mazza di Ferrara per Spal Inter. Ecco, rimaniamo qua, concentrati su questo ultimo dettaglio. Dopo essermi laureato all'Università degli Studi di Ferrara e dopo aver proprio trovato lì il mio primo lavoro, posso assolutamente dire di essere un ferrarese acquisito da adozione. Ecco, questa mettiamola via con calma perché un'altra sicuramente non la prendo. Non solo perché la mia nonna paterna abitava proprio lì, da quando ho memoria, quindi mi è capitato spesso per una cena, un pranzo, dormire lì, insomma, Ferrara la conosco abbastanza bene. Inoltre, se consideriamo il mio passato videoludico su YouTube, non posso non prendere in considerazione la splendida carriera allenatore che abbiamo concluso l'anno scorso qua sul canale, proprio con la Spal. Anche questa riponiamola con cautela. Insomma, mi considero finalese doc al 200%, ma devo dire che la realtà ferrarese non mi sta affatto antipatica. È proprio da Ferrara, dal Mazda, dalla Spal, dalla Live Reaction, è partito tutto questo discorso patologico. Non è che sono pazzo, è che sono partito da lontanissimo e sto facendo tipo, sto circunnavigando il discorso, ma sono convinto che prima o poi arriveremo al punto. State tranquilli. Al termine della partita, vinta dall'Inter, grazie alla doppietta Riccardi, io e Pietro abbiamo ricominciato a parlare di calcio mentre camminavamo. Noi amici in realtà lo facciamo spesso, soprattutto quando siamo in gruppo, a una cena, un aperitivo, e rimaniamo lì per ore e ore a parlare di pallone. Immaginate le nostre amiche quanto possano essere contenti di questa cosa, proprio una Pasqua. Sono però contento perché, nonostante gli sfottocchi, ci devono sempre essere tra amici, perché danno quel gusto, quel sapore in più al calcio, riusciamo sempre ad essere onesti e obiettivi nelle nostre analisi. Pietro lo aveva detto subito dopo la partita, ecco qua la clip che lo dimostra. Ed io mi sono trovato subito d'accordo con la sua linea di pensiero. Mentre poi percorravamo quei 12-13 mila chilometri che ci separavano dalla macchina parcheggiata in divieto di sosta, che non sapevamo più se fosse ancora presente o meno, perché poteva essere stata rimossa dal caratteristico, abbiamo continuato a parlare dell'Inter e sempre più nel dettaglio, nello specifico. L'Inter quella sera non aveva giocato benissimo, anzi era stata messa sotto costantemente da un'ottima spal e volevamo capire come fosse stato possibile vedere triunfare in Razzurri. Certo, certo, certo. Icardi è un giocatore di livello mondiale, arrivati a questo punto, ed è un bomber di rassa come era Trezeguet. Quello che tocca due palloni, fa due gol, magari nella manovra fa un po' schifo, perché non lo vedi mai, non lavora per la squadra, ma ti fa vincere le partite. Però c'è da dire che Icardi era all'Inter anche lo scorso anno. E certo, certo, anche Persic è un giocatore di caratura mondiale, cioè questo proprio è arrivato in finale di Coppa del Mondo tre mesi fa, anche segnato in finale di Coppa del Mondo, e nonostante una prestazione opaca per 90 minuti, perché Persic, dove cacchio è rifinito, ha sforrato quel super asset per Icardi, ha risolto la partita, ma anche in questo caso Persic era già all'Inter lo scorso anno. Così come Andano vice-Skriniar, così come Vecino e la sua garracciarrua. Devo darci un taglio di pronunciare questo termine, perché Adani mi hai rovinato la vita, non riesco più a smettere di dirlo, in ogni video devo dire garracciarrua, perché se no esplode bene. E allora, cos'è cambiato nell'Inter per giustificare un tale cambiamento anche solo di mentalità? Che cosa? Con tutto il rispetto per i vari Versalico, Asamoah, De Vrij, Politano, Keita, Lautaro Martinez, che sono tutti giocatori di ottimo livello, vorrei però soffermarmi su quello che secondo me è stato il colpo veramente importante dell'Inter dell'ultima stagione. E' arrivato a Milano, ha preso il 14, perché il 4 dei Zanetti ovviamente era intoccabile, ci mancherebbe altro, quindi ha aggiunto una decina al suo iconico menù di maglia. Sia io che Pietro infatti eravamo d'accordo nell'individuare Nainggolan come cambiamento radicale della squadra dei spalletti. Basta vedere le attuali difficoltà nel gestire il pallone nel centrocampo della Roma, sicuramente Nainggolan non era solo leader tecnico, ma anche a livello di spogliatoio. Nainggolan a Roma era un idolo, sicuramente non ai livelli di Francesco Totti, perché lui possiede fenomenali poteri cosmici che gli permettono di essere amatissimo e ci mancherebbe altro tuttora anche a Roma. Eppure anche il belga era sicuramente visto di buon occhio. Sì, almeno fino a Capodanno 2018. E mamma mia ragia, ma che cazzo hai fatto su? Giornalisti indignati, opinionisti scandalizzati, mamme che prendeva le magliette, le tagliavano perché non eri stato all'altezza e i loro figli, i loro figli non devono vedere quelle cose, quindi tagliavano proprio il numero 4, la scritta Nainggolan via via. Non solo perché Roberto Martinez, commissario tecnico del Belgio, ha optato per una scelta veramente clamorosa, quella di escludere il belga dalla spedizione mondiale di Russia 2018. Sulla carta, scelta tecnica. Non si è mai fatto riferimento a festini, vestemmie, ubriacate, fumate di sigaretta in pubblico, ecco qua i titoli che lo dimostrano. Lungi da me voler giudicare il lavoro di un professionista che ha fatto anche benissimo al mondiale, perché il Belgio ha fatto un mondiale strepitoso, ma secondo me, nella decisione del tecnico, c'è stato anche qualcos'altro. Proprio nella precedente stagione giallorossa, infatti, Nainggolan aveva appena finito di segnare i suoi primi due gol in Champions, dimostrando di essere un giocatore non solo a livello nazionale, ma anche internazionale. Negli ultimi anni, poi, Nainggolan aveva praticamente cambiato ruolo, passando da mediano, da centrocampista di interdizione puro qual era, a una sorta di mezza punta come intuizione geniale di Spalletti, che io mi ricordo le prime volte che lo vedevo dicevo ma che cazzo stai dicendo, Luciano? Lei Nainggolan non ci può giocare, invece guardate com'è finita. Quindi così, dal nulla, il ragazzo si è ritrovato a essere una delle divinità di Roma, magari dietro al Papa e dietro a Totti, e però le persone lo vedevano sempre più di cattivo occhio e non aveva neanche più quel tecnico che l'aveva modificato portandolo a diventare completamente un altro tipo di calciatore. Tutto questo per una serata, la serata di capodanno. Spiegata in questo modo, non è neanche così difficile capire come Nainggolan abbia deciso di lasciare la capitale d'Italia per trasferirsi a Milano. Che cosa ne pensate? Proprio all'ombra del Duomo e con il suo vecchio allenatore Nainggolan è riuscito a cambiare l'Inter. Bene, dopo una premessa interminabile è giusto arrivare alla domanda focale di questo video. È giusto giudicare Nainggolan per quell'unico gesto? Io immagino che la dirigenza della Roma abbia valutato prima di cedere il giocatore all'Inter proprio quel fatto. Ha guardato l'accaduto e ha pesato le due cose. Immagino anche che i tifosi delle due squadre abbiano reagito in maniera completamente differente all'ufficialità della notizia. Nonostante il belga fosse stato etichettato come cattivo esempio si ergeva sopra tanti altri giocatori sia a livello tecnico sia a livello di leadership. E quindi arrivati a questo punto voglio fare un gioco insieme a voi. Sicuramente Nainggolan è stato un cattivo esempio soprattutto per i più giovani. Magari qualche ragazzino sarà rimasto anche un po' stupito e stare fatto e deluso da vedere quello che considerava il suo idolo fare dirette su Instagram mentre ero ubriaco, fumava e vestemmiava. Eppure a capodanno si sa si tende ad alzare un po' più il gomito. Il risultato è chiaro e lampante. Ci si ubriaca. Non siate ipocriti con me perché io vi vedo vi vedo che siete lì scandalizzati oh no io queste cose non le faccio mentre vomitavate anche vostra madre l'ultimo 31 dicembre. Lo vedo. Inoltre Instagram è entrato prepotentemente nelle nostre vite e adesso tutti possono farsi i cazzi nostri anche se non sono presenti. Magari Nainggolan avrebbe potuto evitare e su questo probabilmente siamo tutti d'accordo di fare storie su Instagram ma qualcuno avrebbe potuto comunque riprenderlo e quindi mostrare lo stesso al mondo quelle stesse immagini. E proprio questo non vi ricorda qualcosa di successo molto più recentemente tipo quest'estate. questo è quello che è successo ad Andrea Pirlo e tanti altri ex campioni durante la notte di addio al calcio del maestro. Perché sì Andrea in quell'occasione era visibilmente ubriaco e il video si è diffuso nonostante intelligentemente non avesse comunque mai fatto nessun tipo di diretta Instagram. Qualcuno ha mai offeso Pirlo per questa cosa? Assolutamente no e ci mancherebbe altro. È un episodio extra calcistico? Sì. È una situazione avvenuta al di fuori di un contesto lavorativo? Certamente sì. Ha fatto qualcosa di male ai suoi ex tifosi o ex compagni di squadra per questa cosa? Per l'amor di Dio no. E allora la prima cosa che mi viene da dire è questa che anche i professionisti hanno il diritto a fare quel cazzo che gli pare al di fuori dal rettangolo da gioco verde. Non sono supereroi non sono robot non sono divinità sono persone fatte in carne ossa e sudore proprio come noi che vogliono fare cose normali proprio come noi. Non normali come accendere il condizionatore il 21 di ottobre perché fare questo tipo di video con il faretto che ti punta sulle tempie è peggio che andare a fare una corsa nel deserto del Sahara. No. Vogliono la normalità vogliono la tranquillità perché se io domani mattina mi mettessi a fare una diretta Instagram mentre pippo sul copione di questo video sicuramente nessuno mi direbbe niente se non le forze dell'ordine che mi arresterebbero all'istante. Perché? Perché sono un cazzo di nessuno. Sono una persona che nessuno caga che nessuno conosce non sono un VIP e quindi posso fare la minchia che voglio senza essere giudicato. Che bello. Tutorial prendete la vostra ipocrisia del cazzo e ficcatevela esattamente nel punto al quale tutti stiamo pensando perché sicuramente a noi non importa non ce ne facciamo niente dell'ipocrisia proprio niente neanche gli aeroplanini di carta niente. Certo magari il ninja potrebbe addirittura essere più forte con uno stegno di vita sano e regolare senza alcol e senza fumo eppure già ora mi pare che stia garantendo ottimi risultati sportivi e quindi penso proprio che vada bene così. E mi spiace tanto pensare che un giocatore come lui possa odiare profondamente e visceralmente la mia Juventus perché ne ho detto sinceramente fuori dai denti Rajen Angolan a me fa impazzire. Visto? Ce l'abbiamo fatta e adesso posso finalmente confessarvi che questo copio in realtà non c'entra assolutamente niente era di un'altra cosa lo tenevo qua per fare scena un po' come Nike che non mi ha pagato per fare il placement di questo pallone ma era l'unico pallone che possedevo e volevo dare un tocco calcistico alla scrivania però Nike o Nike se vuoi puoi benissimo pagarli perché come hai visto è venuto fuori qualcosa di top no in realtà non so come verrà questa cosa è un esperimento una puntata pilota come vedete non ho neanche un fondale che possa ricondursi a un telegiornale a livello calcistico o uno studio opinionistico calcistico perché è uno sfondo giallo che sono due armadi cioè cosa vuoi te non sono riuscito neanche a registrare con la Reflex perché mi è saltata la card e non riesco a registrare c'ho una tv lì che doveva avere l'output per farmi vedere cosa stavo registrando invece ogni 10 minuti mi tocca alzarmi perché sto registrando con un telefono devo andare a vedere se non è saltata la registra è un disastro veramente l'inferno però sono contento sono contento perché questo è un contenuto scritto diretto interpretato da me questo è un contenuto da Luca qui dentro c'è tutto c'è ogni mia singola abilità quella di scrivere un testo quella di buttarlo fuori se secondo la mia personalità e di mostrarvelo è praticamente un trasferimento FTP dal mio cervello all'iPad e dall'iPad dal telefono dal telefono al computer per poi montarlo quindi è come se vi mandassi un messaggio dentro proprio una filosofia un ragionamento su una cosa ok non ho più fiato respiro è una cosa che mi piace credo che sia una cosa figa credo che sia giusto per me fare pochi video ma fatti bene è una vita che dico che voglio fare questa cosa è una vita che dico che voglio fare come gli otobi in ambito calcistico e sono sicuro che potrei riuscirci seguendo determinate linee guida certo siamo ancora indietro questa è la prima puntata lasciatemi il beneficio del dubbio ma se vi è piaciuta vi chiedo di lasciare un mi piace di lasciare un commento spiegandomi cosa vi è piaciuto cosa non vi è piaciuto ma tanto sono sicuro veramente ne sono consapevole che questo è l'ennesimo video che mi va a fare mille duemila tremila views proprio se va bene perché ormai il canale è morto lo sappiamo benissimo lo so io e lo so voi ma in questo momento non me ne frega niente di fare le views di fare views facili la gente mi sta chiedendo perché non sto facendo fifa dato che il mio canale non va più e quindi potrei rigenerarlo semplicemente perché non mi interessa più fare quel tipo di contenuto l'ho già detto mi interessa alzare la sticella e fare un contenuto come questo che poi magari viene fuori una schifezza ne sono consapevole ma che sulla carta per quanto mi riguarda è un contenuto fatto bene di qualità e quindi sono veramente curioso di vedere dall'altra parte che cosa potrebbe venire fuori sono curioso di capire se questa cosa può piacervi oppure no non aspettatevi tanti video del genere perché il mio tempo è veramente limitato ma ogni volta che avrò l'opportunità di scrivere di un argomento che mi preme mi sta a cuore di cui voglio parlare e avrò il tempo di girare perché non è facile anche solo dover montare questa scrivania tutte le volte perché è troppo grande non ci sta nella mia camera grande come una scatoletta di tonno quindi la devo nascondere dietro agli armadi però sono convinto di voler portare questo tipo di contenuto sempre più frequentemente e tutte le volte che ne avrò l'opportunità e magari anche quando ci sarà un po' più freschino perché vestito in questa maniera vi posso assicurare che sto sudando tantissimo